Davanti al cippo eretto dall'Ampi, l'associazione erede dei partigiani antifascisti si sono alternati nei propri interventi rappresentanti dei sindacati autonomi, Confederazione Unitaria di Base, Sindacato Generale di Base, della politica antifascista ed anticapitalista, Rifondazione Comunista e docenti. Un luogo, quello di Piazza Martiri d'Ungheria, scelto appositamente, ha spiegato il rappresentante del sindacato della scuola, Natale Salvo, perché è simbolo di quella libertà che fu conquistata dai partigiani con la resistenza contro un regime e oggi è sotto attacco e perché è il luogo più visibile in città. Chi lotta per il rispetto dei diritti previsti dalla Costituzione, ovvero da quel contratto sociale che lega cittadini e Stato, non deve nascondersi nei social, deve venire fuori allo scoperto. Davanti un nutrito gruppo di docenti e collaboratori scolastici e da una delegazione di medici e infermieri sospesi dal lavoro dall'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, Salvo ha ricordato che la vaccinazione anti-covid non è obbligatoria, che il diritto alla scelta di cura è previsto dalla legge sul consenso libero e informato, non va discriminato e i cittadini non possono essere né ricattati al motto disoccupazione o vaccino, né torturati spingendo il tampone su nel naso fino al cervello, come ha dichiarato il ministro Brunetta. Il bersaglio della manifestazione è stato chiaramente il governo Draghi. Il rappresentante del circolo di rifondazione nel proprio intervento ha dichiarato La gestione della pandemia ha accentuato le conseguenze di 30 anni di attacco al lavoro e ai CET popolari, fatto di riduzione dei salari, aumento della precarietà, tagli alla sanità, alla scuola, ai servizi e a tutte le protezioni sociali. Di precarietà ha parlato anche Giovanni Oliva, rappresentante sindacale del sindacato generale di base, raccontando il successo delle lotte per l'internalizzazione nelle scuole del personale di pulizia, che prima lavorava in appalto, e la nuova lotta che vede il sindacato contro il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, del PD, che in nome di presunte esigenze di bilancio, si è messo di traverso rispetto ad altri lavoratori precari della scuola. Dopo l'intervento del docente universitario Gandolfo Dominici e della docente trapanese Valeria, presente sabato alla manifestazione di Piazza del Popolo a Roma, che ha condiviso la grande e pacifica presenza di cittadini, almeno in 80.000, la manifestazione si è conclusa più volte ripetendo la parola d'ordine, resistenza.